A breve ho un incontro a Tirana con il primo ministro e con i ministri dell'istruzione e della sanità per fare degli accordi bilaterali tra la nostra università e l'Albania. Stiamo studiando dei progetti nuovi da fare, accogliere da una parte gli studenti che vengono da quel paese, dandogli delle forti agevolazioni come abbiamo fatto anche con gli studenti afghani e ucraini e stiamo vedendo anche di fare delle lauree a doppio titolo tra i due paesi. Quindi avrò questi incontri, speriamo di riportare a casa qualcosa di positivo. Quindi non solo scambi ma proprio una partnership? Assolutamente sì, una partnership istituzionale che proporremo proprio al governo di Tirana.